Questo ultimo scudetto per la Juve è stato il numero 9 consecutivo, vale a dire che dalla stagione 2011-2012 i bianconeri hanno dominato la Serie A appunto arrivando primi. Molti dicono eh ma perché c'è la squadra più forte, c'è la rosa più lunga, c'è sempre due squadre, perché c'è Marotta che fa il mercato, però non è tutt'oro quel che luccica, nel senso che non è che i dirigenti juventini non abbiano mai sbagliato. Quindi voglio fare questo video intorno anche un po' scansonatorio e un po' divertente per ricordare stagione per stagione in queste ultime nove i peggiori acquisti di ogni singola annata. Quindi partiamo dal primo, quindi il primo anno di Conte, come non citare Eliero Elia, arrivato 24enne per 9 milioni dall'Hamburgo, ceduto l'anno dopo a 5 e mezzo allo Stoccarda. Capite bene che c'è stata comunque una netta minusvalenza. Appunto è venuto 24enne, talento olandese, ma adattabilità zero. Conte soprattutto in quell'anno quando lo schierava, soprattutto in un 4-2-4 quando capitava di utilizzarlo, no, veramente no. Ultimamente il giocatore ha dichiarato che ok sono venuto in Italia, ero troppo giovane, non sapevo, non avevo la consapevolezza di quello che mi sta succedendo. Quindi un giocatore che veramente è deluso, è venuto con tante aspettative e poi invece si è rivelato un fuoco di paglia. Caro Elia, è vero che tu sei un po' troppo giovane, ma ora sei un classe 87, 33 anni, non può aspirare tanto di meglio. Per lui quell'anno 5 presenze soltanto. L'anno dopo, stagione 2012-2013, preso come il difensore che poteva dare una grande mano, soprattutto in fase di impostazione, Lucio a zero dall'Inter, ceduto l'anno dopo al San Paolo sempre a zero. Per lui, con la Juventus, quattro presenze. Già dal precampionato, mi ricordo, aveva fatto parecchi errori in uscita, portava palla, la perdeva. Ed è stato l'anno che, insomma, un po' di problemi all'inizio a livello difensivo ce l'avevamo. Anche perché Bonucci non era il Bonucci che ora, quindi appunto Lucio era stato preso per fare un po' da chioccia, perché chi non si scorda, chi non si ricorda le sgroppate di Lucio, già ai tempi di Bayern Monaco, prendeva palla, andava avanti e faceva ancora un po' i cost to cost. Non è andata bene. Alla Juventus non è andata bene. Era già un po' in là con l'età, probabilmente, quindi non ha reso quanto avrebbe dovuto. Stagione 2013-2014, ahimè, secondo me è Angelo Gbon, 15 milioni in peso dal Torino, ceduto nel 2015 al West Ham per 11. La plusvalenza è stata di qualche minoncino, non di tanto, diciamo. Però in queste due stagioni ha giocato indubbiamente di più la seconda, mettendo in cascina una trentena di presenze. La prima invece ha fatto un po' più rincalzo. Io ho messo Gbon, non perché sia stato un cattivo, perché sia un cattivo giocatore, ma perché non ha reso quanto ci si aspettava. Quindi in tutto il calcio mercato di quell'anno, Gbon è stato un pochino il neo. Quindi il giocatore è venuto da giovane, ma che non ha reso particolarmente. È venuto a 25 anni dal Torino, quindi dopo anche avevano fatto gli affari di Fusi, gli affari di Pessotto negli anni 90. Però non ha reso. In quella difesa quando giocavo Gbon era, oh Dio mio, quando mancava Chiellini giocavo Gbon, oh mio Dio. Addirittura quando mancava Bonucci veniva messo Gbon, oh Dio. Quindi non dico che è proprio la reazione di quando veniva messo Giuliano in campo, ma più o meno non ha dato quel senso di sicurezza. Quindi dopo una cinquantina di presenze più o meno lascia l'Italia per accasarsi in Inghilterra al West Ham. Stagione 2014-2015. Meno male che in questo caso si parla di un prestito, perché parliamo di Romulo. Un milione di prestito al Verona avevano anche un dito di riscatto che poi hanno stato fatto valere. Però in quella stagione cinque presenze come l'Iero Elia. Un giocatore preso per la sua tuttività, poteva fare il terzino, poteva fare il quinto a destra, anche il centrocampista centrale, anche il centrocampista di destra in un modulo a quattro. Però insomma non l'aveva reso, o meglio non l'ha reso nell'annata di Juventina quanto l'aveva reso nell'annata prima con il Verona. Quindi anche lui è venuto che aveva sui 26-27 anni, ma niente, non l'ha portato niente, cioè onestamente. Quindi in quell'anno meno male, meno male che era soltanto un prestito, perché sennò sarebbe stato veramente da andare a casa i dirigenti e fargli una bella festicciola. Stagione 2015-2016. 13 milioni dall'Inter. Nel febbraio 2017 ceduto per 8 milioni alle Bay Fortune in Cina. Hernanes. Hernanes venuto come regista, come tequartista, in postazione di qua e di là. ebbene, in campionato mise in Cascina in due anni 24 presenze. Ma una prestazione convincente veniva dall'Inter dove comunque già non aveva dimostrato quello che aveva dimostrato la Lazio. C'è un campista di impostazione, un ambidestro, può farti il trequartista, può farti il mediano. Però no, non l'ha convinto minimamente. Comunque anche lui è venuto a 29 anni. Non ha dato quel... anzi scusate, era venuto che ne aveva anche lui 27-28. Comunque non giovanissimissimo, ma non ha dato quello che ci si aspettava assolutamente. Zero. Molti si aspettavano tanto di più dal giocatore brasiliano, che però poi è stato ceduto. Ricordo anche i tifosi premevano perché venisse ceduto Hernanes. Infatti così è stato appunto nel febbraio 2017. Stagione super deludente per lui. Dopo Hernanes, ahimè, stagione 16-17, 23 milioni da Dinamo Zagabria, Marco Piazza. E lui con Alleri aveva iniziato un processo di inserimento nel modulo come seconda punta. Poi aveva giocato col 4-2-3-1 come esterno. Poi ha avuto la sfiga dell'infortunio. Quell'infortunio alla caviglia l'ha condizionato da lì in poi. Ecco che poi sono iniziati i prestiti. Allo Schalke, alla Fiorentina. Sì, ha giocato a volte titolare, ma... insomma, pochi gol, pochi assist, non hanno mostrato assolutamente il suo talento originario. Poi l'anno scorso all'Underlecht e non è che abbia fatto faville, anzi, 4 presenze. Un capitale che, non so per un discorso fisico, un discorso mentale, forse entrambi, è andato per ora, è completamente bruciato. Nell'arco di 4 anni, l'investimento di 23 milioni è stato soltanto un peso per la Juventus. E io mi auguro che si rilanci. Vediamo adesso se, magari in qualche scambio, fosse anche votato 6-7 milioni, ma ti permette di capitalizzare al meglio un giocatore che l'adori inutile. L'adori inutile come è stato inutile e come sarà inutile, penso. Non vedo per lui un futuro roso alla Juventus. Detto ciò, stagione 2017-2018, anche in questo caso, meno male che è stato un prestito. Benedict Ouedes dallo Schalke 04 per un prestito di 3.5 milioni di euro. Avevano un diritto di riscatto che poi non è stato fatto valere. Ora è ritirato. E mi dispiace, perché come difensore era tutt'altro che una schiappa. Era anche bravino. Ma in un anno, tre presenze, soltanto un gol, o meglio, il gol ci può anche stare, ma soltanto tre presenze e poca roba, poca roba. Difensore roccioso, poi tornato allo Schalke e ceduto alla locomotive Mosca. Da lì in poi, nel 2020, caro Benedict, il nostro caro Benedict appeso i scarpini al chiodo. Stagione 2018-2019. Allora, non è che questo sia un investimento, cioè un giocatore sia una schiappa, ma è stato un investimento in sé che è stato fallimentare. Mattia Perin, arrivato per circa 14 milioni dal Genoa, ora stanno cercando di sbognarlo via. Perché dopo un anno da secondo, Chesney era reso bene. Non so per quale motivo quell'anno deciso di prendere Perin. Sì, era stato fatto il ragionamento che sia il primo che il secondo, in più competizioni devono essere forti. Ma un Perin, un portiere che comunque aveva 25 anni, il rampa di lancio, me lo tieni come secondo, è stato un bel rischio. Io sono stato contento quando è arrivato alla Juve, però è stato veramente un rischio. Cioè lì veramente l'hai preso per dire, ok vabbè, se Shesney mi gioca male, metto Perin. Ma il secondo, da che mondo è mondo, è stato un Chimenti, uno Storari, un Rampulla, un Buffon adesso a 42 anni. Cioè un secondo valido, che può sostituire il primo senza problemi. Però, insomma, di seconda fascia. Perin era il di prima. Tu l'hai preso e adesso stai cercando appunto, ora si parla di Atalanta, staremo a vedere come va a finire. Veniamo all'ultimo anno. Ce ne sarebbero da dire dell'ultimo anno. Però ne ho selezionato uno, Danilo. 37 milioni di euro dal Manchester City per 23-24 presenze, due gol, ma poi prestazioni orribili. Letture brutte difensive, o meglio, letture brutte difensive sono male, ma errate le letture difensive, ma a volte troppo timido. Niente, cioè 29 anni proprio senza... è in mollo. Un giocatore in mollo. A me non piacciono i giocatori in molli stile Malesani. Io non sono un mollo, ma lo è Danilo. Cioè proprio zero. Non ha reso assolutamente quello che... che... diciamo avrebbe potuto rendere, avrebbe dovuto rendere. Comunque, ovviamente se il video è piaciuto lasciate un like. Ah, e mi raccomando, se mi riferisco voi juventini un po' più della... della vecchia epoca, se raggiungiamo i 50 mi piace, non so ma... anzi, facciamo... spariamo basso. I 20, i 20 mi piace, mi bastano. Farò il video su i peggiori acquisti prima. Quindi le stagioni prima andiamo magari con lippi, con del neri e con queste qui. Quindi, mi raccomando, ci vediamo al prossimo video e ciaoone!